Poi per esplorare il tuo castello bello si dirige a una mansione ma c'è uno zombie riuscirà a sconfiggere questo zombie scopritore del nuovo episodio della MINE ZETA E là salve a tutti sono Bear e eccoci qui in questo nuovo episodio della MINE ZETA E questo episodio è stato registrato subito dopo quello precedente Quindi se avete scritto Ehi Bear non andare lì è pieno di zombie Non ho ancora letto quindi non lo so Vorrei fare questo salto ma qui no non mi sento sicuro meglio camminare come una persona normale Allora dove diavolo è quello zombie che ho sentito poc'anzi Allora c'è qualcosa? No vorrei che giungessero alla cosa che a Minecraft puoi esporre solo la testa per vedere se c'è qualcosa Perché è carina come cosa ma non c'è nulla in questo cavolo di coso Sembrava una cosa immensa dalla mappa Allora prima io qui ho visto uno zombie E probabilmente è salito sopra Ogni tanto bisogna affrontare gli zombie ma se si può Una cesta! Meglio evitare Piano piano Spero che non ci sia entrato uno zombie in quella cesta Uh 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 proiettili Peccato che io non abbia una pistola Peccato Allora Dove cavolo è andato lo zombie che era prima qui? Che era situato qui vicino Allora questa è una farm E hanno già depretato tutto Probabilmente è venuto qualcun altro prima di me E ha lasciato recentemente Perciò non ho trovato un cavolo Probabilmente è questa la ragione Allora gli zombie non ci sono E si direi che posso proseguire Probabilmente ci saranno delle ceste in questi cosi O forse no No non credo Meglio Allora non Per ora non ho bisogno di tante cose O forse avrei bisogno di un No non posso bere adesso Oppure avrei bisogno di un po' di cibo Perché mi sono rimaste solo queste patatine Se non trovo altro cibo Dovrò fare un po' di caccia agli zombie Per cercare un po' qualcosa da mangiare Però qui vicino dovrebbe esserci un'altra fortezza E dovrei riuscire a trovare delle ceste O almeno lo spero Dalla mappa quel coso sembrava enormemente enorme Ma in realtà Non lo è Allora Dalla mappa le cose sembrano enormi Ma quando ci vai all'interno Sono minuscole Infatti la distanza tra qui E il luogo dove devo andare è enorme Ma già noto Già che mi mancano solo 100 blocchi E sono arrivato Quasi più o meno E' strana questa cosa Da lontano Cioè Dal coso E dalla mappa Sembrano distanze infottutamente Incredibilmente grosse E invece non è niente E la cosa è strana Oh infatti Eccomi qui Sono già arrivato Allora Il fort Ah zombie Perfetto Allora L'unica cosa che ho per curarmi Sono dei Aspettate Dov'è lo zombie Allora lo zombie è lì Se riesco a snicare dentro Ah bello Porca miseria Porca miseria Porca miseria Cacchio c'è uno zombie vicino a me Oppure no No sono dall'altra parte Del Cosa Ok adesso No 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 Ma Merda merda Allontaniamoci dagli altri zombie Vieni qua E gli zombie Sempre prenderli uno alla volta E fare molta attenzione Quando si cerca di ammazzarli Perfetto Sempre fare molta attenzione agli zombie Sempre fare molta attenzione E prenderli uno alla volta Soprattutto Se li si prende uno alla volta E' più facile ammazzarli Allora Ok tu 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 vieni con me Perfetto Vieni 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 con me Perfetto Vieni con me Allora Amo l'ascia Perché ha un range più Lungo della spada Vieni qua Perfetto Mai usare Mai andare in zone Aaaai arkadaşlar Pericolose Perfetto Mai andare in zone pericolose Nel senso Mai andare in zone con l'erba e alberi Non fate come bear Praticamente Allora Vieni qua Ehi Ehi tu Vieni un attimo Voglio parlarti Vieni Perfetto No 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 Attenzione Fare attenzione all'erba Perché se si colpisce l'erba non si colpisce lo zombie Quindi puntare abbastanza alto Aia, porca miseria Anche perché Se si colpiscono gli zombie alla testa C'è una chance di fare colpo critico Allora, vediamo Sento dei passi Se avessi dei cavolo di Una cavolo di pistola Sarebbe tutto più facile Vieni qua Ehi Bello Bello, perfetto Vieni qua, tanto non sei in grado di salire Posso ammazzare No Cavolo, sei già rotta Ah no, eccola Perché mi ha fatto vedere che si è rotta se la ho ancora Allora, lì c'è quell'altro zombie Cos'è questa cosa? È rompibile Ah, è un melone Che cavolo c'è Perché è a forma di scatola se è un melone Allora Lì sopra c'è uno zombie Ma non dovrebbe essere un problema E invece È un grosso problema Porca miseria Porca miseria Non mi chiudere la strada Non mi chiudere la strada Perfetto E cacchio Odio il range della spada Che è minuto Goal La madonna La madonna La madonna La madonnina 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 La madonnina La madonnina Andate a prendere quel coso E andate Andate Perfetto Perfetto Zucchero 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 Corri! Corri! Porca la miseria! Corri! Ok Sono arrivato nel bioma Should patch me until I get I get cosa? No, non mi dire che sono stato avvelenato Porca miseria, non ci voleva Intanto sono arrivato nella zona di... Ok, perfetto Allora, non dovrebbe essere nulla di grave A quanto ho capito Ma potrebbe benissimo essere qualcosa di fottutamente fatale Allora, sono arrivato alla zona dei mushroom Che bello, che bello, che bello Che bello Che bello ha vista da qui Allora, dunque Eeeh È perfetto, zombie! Ma perché no? Non posso mangiare questa roba senza... No Devo per forza prepararla Porca miseria Allora, se snico magari lo zombie non mi vede Welcome to... Pileus! Pileus... No, cazzo Com'è fa... È impossibile che non mi ha mai visto, infatti Porca miseria Un altro scontro fatale Contro uno zombie! Ho appena detto che bisogna sempre evitare gli zombie Ma ultimamente ne sto attaccando sempre di più Allora, fare sempre molta attenzione quando si attaccano zombie Cosa diavolo mi è stato lanciato? Ah Oh Probabilmente gli ho tagliato via un braccio e gli è caduto No! No! Damnazione! Ah Cavolo! Porca miseria Allora Dato che sono morto a metà puntata mi... Non posso... Perdere altro tempo e continuiamo Ma porca miseria Però questa volta sono arrivato più lontano Allora, vediamo un attimo le coordinate 1800 e c'è un faro Perfetto Andiamo un attimo sulla mappa Controlliamo questo 1800 con il faro Dov'è? Allora 1800 Scendi, scendi, scendi Dovrebbe essere 1800 verso di qui Abbiamo superato... Non è mica... 1850 Ok, perfetto Sono arrivato a Romero 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 1445 Perfetto Allora, sono arrivato a Romero Se non sbaglio Qui dovrebbe esserci Romero Romero è una buona città Solo che È molto soggetta agli attacchi De... Di persone non tanto belle Oh, Romero è tornata normale Avevo letto in un update Che era stata trasformata Però a quanto pare L'hanno riportata di nuovo Al suo stato normale Oppure sto sbagliando No, probabilmente mi sono confuso Con le città Sì, probabilmente sì Si era trasformata in Spicchi Romeo Mmm, o forse Non... Probabilmente non ricordo male Cioè, ricordo male Oh, una cesta Un zombie flash Perfetto Uh, un'altra cesta Uh, un bendaggio Questo è più utile Allora Uh, cesta Oggi abbiamo trovato Tante belle cesta Che cos'è questo? Lime, dai Mmm Cavolo, avrei preferito Trovare un aspirino Allora Mmm Mi sa Che devo adottare Una strategia diversa Ovvero Sempre quella di Uh, cesta Cercare roba Ma non avventurarsi Troppo lontano Se questa roba Non viene trovata Mi spiego meglio Io Tendo ad andare Sempre più avanti Sempre più avanti Sempre più avanti Ma come ormai Avete capito E sapete meglio di me Più A nord si va E più la zona Diventa pericolosa E lì c'è Una cesta Perfetto E lì c'è anche Una bottiglia d'acqua vuota Dovrebbe essere buona Oh, cacchio Zombie Vabbè Ma non possono entrare Uh, pozioni Cacchio, cacchio, cacchio No Cavolo, cavolo, cavolo Cavolo, cavolo, cavolo Cavolo, cavolo, cavolo Cavolo, cavolo, cavolo Cavolo, 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 cavolo Cavolo, 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 cavolo Cavolo, 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 cavolo Allora, 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 allora Allora Tutto questo non va bene Tutto questo non va bene Se avessi Porca miseria Sempre sicuro la strada Così almeno non vado Allora Caccio, 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 caccio Vorrei poter Riorganizzare un attimo Il mio inventario Perché ho delle Splash Potion Che possono essere usate Per danneggiare Questi cavolo di zombie No Allora Se sopravvivo Anche con pochi cuori Ho da curarmi Quindi posso curarmi Però Caccio, sempre guardare Anche dietro Quando si cammina Però Porca Pupazza Allora Buttarsi giù Buttarsi giù Buttarsi giù Buttarsi giù Perfetto Perfetto Allora Nel Ah Caccio Chi me l'ha fatto fare No Però adesso dovrei essere in grado Di ammazzare questo stronzo Senza Avere Ferite Troppo gravi Perfetto Allora Allora Porca miseria Ho delle pozioni di vita Instant health Però vabbè Allora Se vado verso di qua Si dovrei riuscire a trovare Un luogo Dove non ci dovrebbe essere nulla Sì Perfetto Possiamo andare Allora Possiamo camminare di qui Non credo che nell'acqua si consumi tanta Energia Però Meglio andare Piano Uff Strano trovare delle pozioni In uno spawn point Vicino a uno spawn point Molto strano Allora La flash Ho due rotte in flash E un po' di patatine Quindi dovrei essere abbastanza bene Con i bendaggi e cose varie Riempiamo anche questa cosa d'acqua La beviamo anche Perché ci troviamo Ok Quindi adesso con quest'acqua Posso fare distanza Coprire le distanze maggiori Per fortuna Allora Dalla mappa Per esempio Adesso Dalla mappa La scogliera sembrava Piccolissima E invece è fottutamente alta Porca miseria Allora Allora Devo riuscire a Sopravvivere di più Cavolo Voglio arrivare ai giganti Allora Più che altro Voglio vedere un gigante Dai Sarà stupendo E voglio anche ammazzarne uno Non finirò questa serie Finché Non vedo un gigante Crepare Non mi interessa E credo che a voi Faccia piacere Perché ho visto Che la mine z è molto apprezzata Ma vabbè Comunque Ehm Sì Devo muovermi Corca miseria Ho messo Ho messo il brinz Ok perfetto Sia dal sistema Che dai tizi Che stanno giocando Perché Vedo che Trovare degli stronzi Che ti ammazzano È abbastanza difficile Però è possibile Però è possibile È sempre possibile Trovare degli stronzi Che cercano di ammazzarti Allora Ehm Infatti Io li ho incontrati Tutti Io Perché ogni Persona che incontravo Voleva ammazzarmi Tranne Cioè I casi erano due O non Sembrava che Fossi invisibile Quindi non Se ne fregavano Di me Oppure Cercavano di ammazzarmi Ma vabbè Allora Ehm Ok Dovrei riuscire ad arrivare A delle rovine Qui vicino Per poi Sì direi che Finirò l'episodio Perché Ho da fare Porca miseria Allora Ehm Sì Allora andiamo Ehm Sì dovrei essere Quasi arrivato No invece a 70 Dovrebbe essere Perfetto Ah Zombie È ovvio È ovvio Quando cerchi di andare Da una parte Ci sono sempre questi Zombie Bellini E tanto carini Che ti ostacolano Mi sembra una cosa ovvia È anche di là Perfetto Ah Dovrei informarmi meglio Sui luoghi dove vado Devo Vedere meglio La zombie rate Perché se non ho Molta roba Meno di lovo Non posso andare Cioè Più di lovo O medium Non posso andare Perché altrimenti Sono altamente fregato Allora Devo andare di là 70 Sì sono quasi arrivato Dovrei già incominciare A vedere qualcosa Ehm Ah no 1455 Mi sono spostato troppo Quindi devo andare di là E sì Dovrebbe essere a questa altezza Ma di qua Ehm Ok Perché non vedo niente Mi sa che ho sbagliato le coordinate 1445 Ah 170 Non 70 Quindi ancora più su Devo andare più di là E più su Ah ma io sono a 42 Poi Non sono a 70 70 è l'altezza Pezzo di iota Devo andare di qua Ah È anche più sotto Ma porca miseria Ah Bear che vaga Bear che vaga Allora Ok Questa Devo andare di qua Di qua Porca miseria Ci sono passato vicino E non l'ho visto Perché È 1070 È 1070 170 Non 70 Bear Ah Porca miseria Allora Allora Ah Ah Allora Andiamo di qua Dovremmo trovare qualcosa Ok Adesso sono a 1770 70 e non c'è niente Però Dovrei essere a 45 Quindi più di qua Dovrebbe essere Qui Oh Che cazzo Cos'è questa roba Allora Vedo Della LOL Che cazzo Oh Vabbè Tanto ormai morirei Comunque Beviamo una pozione Per sicurezza Geronimo Cacchio ma C'era la Cosa Non sarei dovuto morire C'era la Ragnatela Non sarei dovuto morire Cacchio Non sarei dovuto morire C'era la Ragnatela C'è Non sarei dovuto morire Porca miseria Ah Vabbè Ci rivediamo nel Prossimo episodio E non so ancora Quando faremo la Mini Z Tutti insieme State attenti Alla pagina di Facebook E la pagina di Twitter Perché lo scriverò lì Quindi Dategli un'occhiata Ogni tanto Perché La pagina di Facebook Adesso è aperta E funzionale Quindi Dirò Tutte le cose Che non Sul canale Tipo Oggi potrei caricare Questo o questo Cosa volete No non credo che farò cose del genere Però Potrebbe Oppure Oggi non potrò caricare video Perché il mio gatto Non vuole mangiare la pasta Sì Vabbè Quindi Link sempre in descrizione Pagina Facebook E pagina Twitter Quindi ci rivediamo Nei prossimi video E Ciao a tutti 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 Ciao a tutti